Feriti due operai nell'incendio divampato in mattinata nella raffineria Eni di Taranto e ricoverato in prognosi riservata nel centro grandi ustionati di Brindisi, Luigi Ancora, di 44 anni, operaio della ditta di meccanica TPS. Ferito lievemente, l'altro lavoratore, dipendente della raffineria, colpito alla fronte da una manichetta. L'operaio ustionato stava eseguendo lavori di manutenzione a valvole di una conduttura che arriva a un serbatoio di carburante esterno allo stabilimento. Probabilmente si è verificato un guasto al collettore di una valvola. I vigili del fuoco sono riusciti a spegnere l'incendio prima che si verificasse un'esplosione. In concomitanza con l'incendio, la centralina di monitoraggio di via Machiavelli a Rione Tamburi di Taranto ha rilevato un aumento dei valori di benzene. Sono stati i tecnici dell'ARPA di Taranto ad accertarlo nell'ambito dei controlli avviati per verificare eventuali ripercussioni dal punto di vista ambientale non solo per l'aria ma anche per il suolo e la falda acquifera. Intanto Eni rende noto che la quantità di prodotto combusto è stimabile in circa un metro cubo di benzina. Per il presidente dei Verdi, Angelo Bonelli, l'episodio conferma che Taranto è una vera e propria bomba ecologica. Taranto e i suoi abitanti, dice Bonelli, hanno pagato e pagano un prezzo altissimo a causa dell'inquinamento e di un sistema di produzione basato sulla diossina.